Senti che profumo Stefano? Posso dire che è il profumo dell'antichità? Eh sì. Perché questa intanto lei è... Elisa. E questo pane è fatto con farine di grani antichi. Ho detto tutto giusto? Sì, tutto giusto. Siete voi che le producete? Queste sono grandi nostra produzione. Noi abbiamo i campi a volta mantovana, sono grandi nostra produzione. Poi noi li maciniamo a pietra e dalle farine che si ottengono facciamo tutti i nostri prodotti, sia da forno, pasta fresca e dolci. Cosa hanno di speciale le farine di grani antichi? I grani antichi sono grani più sostanziosi, quindi molto più nutrienti e contengono meno glutine rispetto agli altri grani, diciamo, classici. È stato recepito bene dalla gente, come si fa a comunicarle queste cose? Allora, ci vuole un po' di tempo perché all'inizio non lo capiscono, non è che non lo capiscono, è che ci vuole più tempo per capire anche la particolarità di questi grani, ma dopo vengono molto apprezzati e infatti si vede dal fatto che comunque li continuano a riprendere. Adesso Stefano ti faccio vedere le materie prime che noi utilizziamo per fare i nostri ravioli. Cosa c'è qui? Questo per esempio è il tortello amaro, usiamo delle erbette fresche, salvia, cipolle, uova, aglio, tutti presi dal mercato, usiamo un parmigiano reggiano delle vacche rosse, olio extravergine d'oliva e pane di nostra produzione, utilizziamo quello che ci avanza per non avere scarti. Utilizziamo per la pasta le nostre farine, questa per esempio è quella di farro integrale e invece per la classica usiamo un grano tenero sempre di nostra produzione. Ma tutte queste cose si potranno anche apprezzare dal vivo con Corti e Cascine? Assolutamente sì, a Corti e Cascine faremo un aperitivo dove daremo ad assaggiare qualche nostro tipo di tortello, più qualche sorpresa, focacce, bruschette, faremo un bel aperitivo ricco. Aperitivo ricco mi ci fico. Avete preso nota ragazzi, cercate sul sito per corticascine.it. Brado e le strie. Brado e le strie, perché Brado è il nome del figlio e le strie, le streghe, siamo noi, tutte noi donne. Ma sono buone, lo garantisco. Lo garantisco anch'io. Anno a te ma cose buone, Corti e Cascine.